allora stasera il no no sta per pescare vediamo questa è la canna dello zio prova a fare un lancio vediamo che bei colori adesso lo riempio zio vado a riempirlo ok sono qua vediamo attento al nono vediamo se pesca qualcosa si è liberato come fai a accorgerti se stai pescando vediamo eccola si già pensa a te già un pesce sul lago di garda no niente primo tentativo è andato vuoto non c'era ma è è non c'era ma non c'era ma non c'era ma